3 luglio 2024, ore 17.30, siamo in via Petrarca, lato Calvizzano, zona periferica, lato Calvizzano, nonostante le nostre continue segnalazioni il degrado continua a farla da padrone. Questo gabinetto sta in questo posto da mesi, ribacce sul marciapiede. Sarebbe ora che il Comune intervenisse per pulire e raccogliere tutti questi rifiuti.